Poi rifacciamo anche i giud e rifacciamo il canto, e poi stacchiamo magari. Allora... Poi ci chiede la data, ragazzi. Sì, sì. Chi sei? Sì. Sì. Sì, sì. E poi to me, da bella, I, 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 I'm, I to try, you're gonna live up my guide. You move me back to what you know, so far more, from all that we want to grow. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti